Grazie 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 Ya me descubro entre Carvajal Ha sido un maquinaz, ha subido, ha bajado, ha metido el gol A DN, a DN madridista da un po' di piccino da un po' di piccino Vinicius, Vinicius Balone d'Oro Io non so come lo facendo Io sto qui senza essere del Madrid e lo vivo come se lo fossero è incredibile Le ho detto a Florentino che mi paghe il cardiologo perché stava per che se mi saia dal corazon il primo tempo stava un po' dormito la verità però hanno spabilato, Carvajà super bene e super contento la pieza come la carpea Sobretodo alla ragion final come sempre nei ultimi minuti sabemos che sono del Madrid